Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. In questo caso me l'avete richiesto davvero in tanti su Google Docs. Come vedete sto cercando di accontentarvi per quanto possibile. Se mi chiedete dei casi delicati in cui sono presenti dei minori, ahimè dovrò creare questi contenuti su un'altra piattaforma che si usa per fare live. Poi successivamente scaricherò la live, la editerò e la pubblicherò anche su YouTube, in modo che tutti possiate vedere il contenuto. Oggi però sono qui per raccontarvi un'altra storia. Oggi parliamo del triste caso di Assunta Marsala, detta Susi. Siamo a Siracusa, una città storica della costa ionica della Sicilia. L'asfalto è bruciato dal sole. Ci troviamo più precisamente in via Montefrasca, una strada che Assunta, detta Susi, conosce molto bene, in quanto si reca lì ogni domenica per pranzare da sua mamma, che di nome fa rosa. Inoltre proprio in quella strada si è anche trasferita la sorella di Assunta, che di nome fa Maria dopo essersi sposata con Filippo. Assunta è una ragazza di neanche 30 anni, ha la pelle chiara, le labbra carnose e gli occhi chiari e gentili. È una ragazza alla mano, ha molta voglia di vivere e attiva, è una ragazza brillante, intelligente, simpatica. Inoltre Susi è molto spontanea. Lo è così tanto che non dimostra affatto i 27 anni che ha. A volte sembra proprio una bambina senza nessuna preoccupazione. Ma c'è una cosa che Susi teme, ed è la morte. Ha perso il padre da piccola, tanto che neanche si ricorda di lui. Ma questa è un'angoscia che lei è rimasta dentro e che proprio non riesce a scrollarsi di dosso. La paura di perdere una persona che lei è cara, la paura di rimanere da sola. Susi si sposa molto giovane con il fidanzato Francesco Calcinella. E ha un sogno comune a molte donne, vuole mettere su famiglia, vuole diventare madre. Susi e Francesco quindi provano ad avere un figlio. E quando arriva la lieta notizia, Susi la annuncia con emozione alla famiglia. Il marito Francesco racconta che per l'occasione hanno anche organizzato più di una festa. Susi in quel periodo lavora, fa l'estetista, ma decide di smettere di lavorare per non mettere a rischio la gravidanza. Dunque Susi resta a casa e si accarezza la pancia. Non vede l'ora di abbracciare la sua creatura. Questa gioia però purtroppo è di breve durata perché la ragazza perde il bambino per cause naturali. Questo vuol dire che impiega due mesi per espellere il tutto. E questo le provoca la paranoia costante di avere dentro di sé una vita che però non è più una vita. Susi ripete a suo marito in modo ossessivo e scrive su un diario in quei due mesi che nella pancia ha la morte e inevitabilmente sprofonde in una grave depressione. È il gennaio del 1998. Susi non sta bene. Si lamenta, si sente stanca, non riesce a dormire, dice di essere vuota. Si sente una persona inutile. Ha paura di tutto, specialmente per Francesco che a volte si sveglia nel cuore della notte e se la trova lì vicino, che lo guarda per controllare se stia respirando regolarmente. Francesco ben presto capisce che non si può andare avanti così. È necessaria una soluzione. C'è bisogno d'aiuto insomma. Così Susi decide di prendersi un periodo di pausa. Si allontana dal marito e si sistema a casa di sua sorella Maria e suo marito che, per l'appunto, si chiama Filippo Barbagallo. Nonostante questa distanza, Francesco la va a trovare molto molto spesso e Susi, per trovare conforto, si rifugia nella fede. Praticamente inizia a pregare tutto il giorno e Francesco, sperando di esserle d'aiuto, va a parlare col sacerdote della chiesa di un paese lì vicino, il quale gli consiglia una persona che di nome fa Piero Bellini. Ebbene, Piero Bellini non è proprio un dottore e non è neanche uno psicologo, bensì è un sociologo. In ogni caso Susi ci prova, si affida alle cure di questo Piero Bellini, fa giusto un paio di sedute che in effetti le danno un minimo di sollievo. La ragazza per un periodo si sente più sicura di sé, le cose vanno meglio anche con suo marito Francesco. Il tutto dura un mese, poi Susi precipita nuovamente nel buio. A questo punto Susi pian piano inizia ad estragnarsi dalla realtà. Comincia ad essere assente come se stia lì a pensare ad altro. Spesso si siede e fissa un punto nel vuoto, senza dire una sola parola, per ore e ore. Nonostante ciò Susi continua ad andare dallo psicologo, che psicologo non è. Ma continua a peggiorare, a questo punto non ci sono più miglioramenti. Un giorno Susi chiama Francesco, gli dice che sta male e che ha bisogno di un passaggio. Ha appena concluso una seduta con Piero Bellini. Dunque suo marito la va a prendere. Susi sale in macchina. E Francesco a quel punto si ritrova davanti una donna che assomiglia a Susi, ma è come se non sia più lei. Susi è triste, non sorride più da tanto tempo, ma soprattutto ha lo sguardo perso nel vuoto. Arriva quasi ad essere catatonica, quindi Francesco si preoccupa molto. Prova ad abbracciarla e per la prima volta Susi lo rifiuta. Si scosta, gli dice che è sporca e che non deve toccarla. Susi in pratica dice a suo marito che non merita il suo amore. Francesco è davvero disperato, non sa cosa fare, quindi che fa chiama Piero Bellini, il terapeuta di Susi. Lui però dice a Francesco che va bene così, anche se Susi è strana. La ragazza è di fronte ad una scelta e l'unica cosa che può fare lui è starle accanto. Questa volta però, col tempo, la situazione si fa sempre più preoccupante. La ragazza pronuncia alcune frasi sull'essere indegna di suo marito e di sua madre. Susi sembra che provi rimorso e vergogna per qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Francesco non sa proprio più che cosa fare e quando Filippo Barbagallo, ossia suo cognato, un uomo di fede evangelico pentecostale, si offre di ospitarle in casa in modo definitivo per assisterla con la moglie, Francesco accetta con sollievo. Filippo accompagna spesso Susi dal pastore perché continua ad essere turbata e in famiglia si diffonde il convincimento che sia posseduta. Vi dirò di più, se ne convince anche lei stessa, tanto che un giorno tenta di colpire sua madre con un coltello mentre urla, io sono il diavolo! L'unica cosa che fa per tutto il giorno è pregare. Poi arriva un giorno, un giorno in cui Filippo Barbagallo dice a Francesco che ci avrebbero pensato loro a risolvere tutto. Loro hanno la soluzione. Quindi che succede? Vanno tutti a casa di Susi e Francesco. Poco dopo gli raggiunge anche il parroco e il parroco questa volta non li raggiunge perché vuole pregare con Susi o vuole farla pregare. No. Questa volta vogliono sottoporla ad un esorcismo. Al termine di quell'esorcismo effettivamente a Francesco pare che Susi sia tornata la ragazza che conosceva. Di colpo infatti il suo corpo viene invaso da piccole scosse. Poi riprende conoscenza e chiaramente spaesata si guarda attorno e chiede cosa sia successo. Francesco, Filippo, Maria e il parroco sono convinte di aver vinto la battaglia. Susi sembra tornata quella di una volta, è lì ed è presente. Così Filippo, Maria e il parroco se ne vanno felici ma quella felicità dura davvero pochissimo. La mattina dopo infatti Susi è esattamente nella stessa condizione in cui stava precedentemente. Insomma si sono illusi tutti, suo cognato, sua sorella, lui e il parroco. Nonostante il fallimento di questo esorcismo e nonostante la preghiera non pare di assegni di miglioramento, il metodo di cura di Filippo non cambia. Insomma continua a sostenere che la preghiera avrebbe risolto tutto quanto. È convinto Marcio che in Susi ci sia il diavolo, che ce l'abbia dentro e che questo sia identificabile col suo terapeuta. Insomma bisogna scacciare il demonio Susi, deve essere salvata. E per salvarla bisogna pregare assiduamente, portarla in chiesa, recitare riti di purificazione e stare sempre con lei. Finalmente Susi dopo qualche tempo riesce a confidarsi con sua madre e le dice quello che la tormenta tanto. È il 14 novembre, un lunedì mattina. Lei e la madre vanno in campagna a fare una passeggiata e qui Susi in effetti inizia a fare dei discorsi alquanto strani. Chiede a sua madre Rosa quali erano i suoi rapporti col padre, poi le chiede se ha amato tutti i figli nello stesso modo. Infine le confida di aver avuto dei rapporti intimi proprio con il suo ex terapeuta. La madre sul momento non ci crede, ma la seconda. Poi Susi si avvicina e di colpo la colpisce con la punta del coltello con cui sta sbucciando un'arancia alla gola. Quella è una ferita superficiale e il coltello sparisce in fretta grazie a mamma Rosa, che nonostante sia alquanto spaventata minimizza l'accaduto. La sera a casa Susi le chiede scusa e poi passa tutta la notte sul divano. Con sua sorella Maria a parlare. Alla fine tutti si convincono che Susi abbia detto la verità. E questi rapporti intimi col suo ex terapeuta, alla madre e ai parenti di Susi, non appaiono così liberi perché la ragazza è in una condizione psicofisica di sofferenza. In quei giorni è assente, sembra quasi che stia assumendo dei sedativi. Susi talvolta ha degli scatti di ira, poi chiaramente torna in sé, si pente, si scusa, ma si rende anche conto di essere ormai totalmente smarrita. Così decide di allontanarsi dal marito definitivamente perché lui possa trovare la felicità con un'altra donna e avere dei figli. Lui invece non molla e continua ad andare a farle visita. È davvero determinato a vederla nuovamente serena. Poi arriva il pomeriggio del 17 novembre 1998, quando alle 14 di pomeriggio la 27enne Assunta Marsala scompare. La sorella Maria e il cognato Filippo Barbagallo raccontano che la ragazza si è allontanata di sua spontanea volontà dall'abitazione, fuggendo attraverso la finestra del garage che dà sulla strada. Maria, la sorella di Susi, ovviamente si affretta a raggiungere casa di sua madre. Poco dopo la raggiunge anche Filippo, a bordo della sua Y10, già parcheggiata fuori dal garage, ma anche lì Susi non c'è. I due a questo punto in macchina raggiungono la fermata dell'autobus, ma anche lì non trovano Susi. Alla fine Maria e Filippo, che fanno, vanno in questura a denunciare la scomparsa di Susi. A questo punto la coppia avvisa anche il marito di Susi, Francesco, che è a lavoro. Appena Francesco finisce di lavorare si dà appuntamento con Filippo, quindi i due si incontrano e insieme vanno a cercare Susi, a casa dello psicologo, o meglio, del sociologo, che l'aveva in cura, in una villa fuori città. Ma anche lì di Susi non c'è nessuna traccia. A questo punto prendono alcune torce, perché nel frattempo si è fatto buio, e vanno a cercarle in un paese vicino, a Palazzolo Accreide, perché lì è presente un ponte dal quale, una volta, ha minacciato di gettarsi. Ma anche in questo caso, di Susi, non c'è traccia. Susi è sparita. Dov'è finita Susi? Dove si nasconde? Perché è scappata? Passano due mesi dalla scomparsa, quando il corpo senza vita di Susi viene ritrovato nella campagna di Epipoli, poco distante da Siracusa, il 2 gennaio del 1999. Quella zona è principalmente frequentata da allevatori con bestiame, e infatti sono proprio due pastori a notare la sua sagoma. In lontananza scorgono quello che sembra un manichino bianco, intonso e semivestito. Si avvicinano quindi facendo attenzione al fango, perché nei giorni precedenti aveva piovuto, e rinvengono per l'appunto il corpo di una donna, e come già vi ho detto, quella donna è proprio Susi. Non ci sono molte ferite sul suo corpo, e in effetti è vestita per metà. Non indossa il reggiseno, la maglietta, né tantomeno il golfino di ciniglia beige che indossava il giorno della sua scomparsa. I suoi vestiti sono spariti, non c'è traccia di essi, sul luogo del ritrovamento. Il corpo è adagiato sotto un traliccio dell'alta tensione, con un braccio proteso verso l'esterno e l'altro ripiegato verso il viso. Alla gola ha una ferita, che potrebbe essere un taglio, ma potrebbe anche essere una ferita causata da qualche animale. Gli inquirenti a questo punto chiamano immediatamente Francesco, e per lui termina l'angoscia dell'attesa. Ma ne comincia immediatamente un'altra, quando i carabinieri lo chiamano, chiedendogli di raggiungerlo. Nel momento in cui Francesco arriva sul luogo indicato dalle forze dell'ordine, e si rende conto che è un po' in aperta campagna, viene attanagliato dai dubbi. Ha una bruttissima sensazione. Forse, sua moglie è stata ritrovata. Non passa molto tempo quando i carabinieri danno la triste notizia a Francesco. E Francesco quella triste notizia già la immaginava. La sorella Maria e il cognato Filippo, come già vi ho detto, raccontano che Susie si è allontanata dall'abitazione, fuggendo attraverso la finestra del garage che dà sulla strada. Quello è un percorso che arriva fino al luogo del ritrovamento, e che tra l'altro le forze dell'ordine effettuano più volte, notando che a quell'ora sarebbero state molte le persone che avrebbero potuto incontrare Susie, d'altro canto erano le 14 del pomeriggio. Ci sono diversi dubbi, come quelli che riguardano l'estrema difficoltà di scavalcare una finestra posta ben più in alto della statura di Susie, che era alta un metro e cinquantacinque. A tutto ciò si aggiunge che Susie ha attraversato una strada residenziale, nell'orario di rientro scolastico, in un giorno feriale, senza essere mai vista. Le domande che affiorano a questo punto sono parecchie. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione, tanto che è difficile stabilire con certezza sia la data che le cause della sua morte, che quindi potrebbe essere naturale. È possibile che Susie si sia sentita male dopo aver vagato in stato confusionale per tutti quei giorni? Oppure si è suicidata? Ma no, queste ipotesi non stanno in piedi. Il corpo della povera Susie è vero, è in avanzato stato di decomposizione, ma non a causa del clima che c'è in quel periodo. Questo significa che il corpo deve essere stato chiuso da qualche parte, in un luogo ben più caldo di quello che un gennaio freddo e piovoso suggerirebbe. Per di più, come già vi ho detto, Susie viene trovata mezza nuda. Controllando il corpo si nota immediatamente che gli stivaletti che calza ancora Susie hanno le scuole pulitissime, non c'è nessuna traccia di terra bagnata, che invece si estende tutta intorno. La domanda più pressante si fa immediatamente sentire. Quando è morta Susie? Quando è stata portata lì? L'autopsia risponde ad almeno una delle domande. Susie è morta allo stesso giorno della sua scomparsa, ossia il 17 novembre del 1998. Probabilmente è morta strangolata o comunque è stata soffocata. Non ci sono segni di violenza intima e il corpo non presenta le ferite provocate dagli animali che ci si aspetterebbe di trovare su un cadavere lasciato in un campo aperto per più giorni. Nel 2001 c'è una svolta apparente del caso. Viene scritto nel registro degli indagati Filippo Barbagallo, ossia il cognato di Susie. La ragazza era molto legata all'uomo, anche per via delle fragilità che attraversava in quel momento. Se ci pensiamo in effetti la storia di Filippo sta un po' poco in piedi. È strano che Susie sia fuggita da quella finestra in garage, perché come già detto quella finestra è troppo alta per Susie. Lo sottolinea anche il perito della procura, il professor Maurizio Ripani, un docente di anatomia umana e di scienze motorie. Peraltro nelle condizioni psicofisiche in cui si trovava Susie non sarebbe neanche riuscita a scavalcarla quella finestra. Inoltre se Susie fosse scappata in quel modo, a quell'ora, con i bambini che rientravano da scuola, qualcuno l'avrebbe sicuramente vista. Per di più, se Susie avesse voluto andarsene veramente, sarebbe scappata così? Senza soldi né documenti? In tasca le viene trovato solo un accendino. Inoltre secondo la procura non è neanche convincente la versione che Filippo dà delle immediate ricerche di Susie. Dice che è andato nel garage ed ha guardato nel cofano del suo Mercedes. Con lui, dice, c'erano anche i suoi figli e sua moglie. Quest'ultima però non conferma. Perché Filippo racconta del cofano? Sembra voglio insistere proprio su quel particolare come a dire immediatamente e con testimoni che in quel cofano non c'era niente. Filippo quindi dice di aver preso la sua Y10 già parcheggiata fuori dal garage col fine di cercare Susie con suo marito Francesco. Ma Francesco e un amico che si trova con lui ricordano di aver visto Filippo arrivare a bordo di un Mercedes non di una Y10. Quelle due macchine e quel cofano che Filippo sostiene di aver controllato sono importanti. La procura infatti si fa un'idea parecchio precisa di ciò che è successo. Filippo ha ucciso Susie l'ha messa nel cofano della sua Mercedes e poi ha finto che fosse scomparsa per portarla via e nasconderla da qualche parte. La domanda a questo punto si fa palese. Perché Filippo avrebbe dovuto uccidere Susie? Qual è il movente? A questo punto bisogna fare un passettino indietro. È settembre e mancano due mesi alla scomparsa di Susie. Lei e il marito vivono a casa di Filippo che, se ricordate, la sta curando con la preghiera. E in effetti la ragazza si è legata molto a Filippo. Nelle sue condizioni, d'altro canto, ha bisogno di una forte figura di riferimento. Susie fa tutto ciò che Filippo le chiede. Segue tutti i suoi consigli. Molte volte, nel cuore della notte, quando non riesce a dormire, si alza dal letto per andare a parlare con lui, per chiedergli consiglio, per farsi spiegare la motivazione di alcuni suoi stati emotivi. Filippo sottolinea che vede Susie solo e soltanto come una sorella. Per la procura, invece, c'è di più. Secondo la procura, il momento del delitto va ricercato in questa sfera passionale. Inoltre, è necessario riesaminare gli ultimi giorni di vita di Susie. E dunque facciamo un altro passo indietro. È il 14 novembre, ossia domenica sera. Susie e Francesco si salutano perché da un po' di tempo Francesco torna a dormire a casa sua, mentre Susie rimane da Filippo e da Maria. Quella sera, però, Susie è diversa. Sembra un'altra persona, quasi. Anzi, non sembra un'altra persona. Sembra sia tornata la Susie di un tempo. Susie e Filippo quella sera parlano tanto come quando erano fidanzati e quando si salutano si danno due baci. Arriviamo al 15 novembre, è lunedì, e come già vi ho detto, Susie va a fare una camminata in campagna con sua madre. La colpisce con un coltello, ma poi si scusa. Arriviamo al 16 novembre, è martedì, e Susie e Filippo escono in macchina per fare un giro. Cosa strana, viste le condizioni psicologiche di Susie. Perché quella passeggiata? Per andare dove poi? Filippo dice che è stata un'idea di Susie e comunque la passeggiata dura poco, in quanto arriva una scala greca alla periferia di Siracusa. Susie vede l'auto di suo marito parcheggiata sotto casa di un amico e di colpo cambia idea, vuole tornare a casa. Filippo la accontenta. Quella notte Susie non dorme, la passa in gran parte a pregare e a recitare salmi con Filippo e Maria. Ma e me? Non migliora. Anzi, ad un certo punto della notte sputa sulla Bibbia. Arriviamo al 17 novembre, ossia mercoledì mattina. Filippo e Maria portano Susie dal pastore della comunità evangelica, che di nome fa Umberto Trovato. Ma Susie si dimostra ancora una volta insensibile alle preghiere che vogliono cacciare il diavolo dal suo spirito. Ovviamente, il suo stato psicologico non migliora affatto. Quel 17 novembre alle 14, Susie scompare. È stato Filippo ad ucciderla? Beh, per la procura è lui il colpevole. Le ipotesi che restano a questo punto sono due. O Susie se n'è andata da sola scavalcando quella finestra ed è scappata, come dice Filippo, oppure Filippo mente. E se Filippo mente, sostiene la procura, è lui l'assassino. Torniamo ancora un attimo indietro, allora mettiamo dei punti fermi. Susie non è scomparsa alle 14 in punto. Susie è scomparsa alle 13 e 40. E l'orario in questo caso è molto importante perché alle 14 sicuramente ci sono degli studenti che rientrano da scuola, ma alle 13 e 40 ce ne sono ancora di più. Quel 17 novembre in cucina c'è sua sorella Maria che sta cuocendo la pasta per il pranzo, che peraltro è quasi cotta. Susie, prima di andare in cucina a mangiare, scende in garage a fumare una sigaretta. Filippo, con molta probabilità, la raggiunge, forse perché sta tardando per il pranzo. Nasce una discussione, Susie forse lo insulta, forse lo aggredisce e allora la discussione sfoce in un gesto violento. Forse Filippo la afferra per la gola e le mette una mano sulla bocca per non farla parlare o, più verosimilmente, per non farla urlare. Ma Susie è troppo debole e muore. Filippo lì per lì non sa che cosa fare. Poi ci riflette un attimo e non si fa prendere dal panico. Prende Susie, ormai senza vita, la nasconde nel baule e va a chiamare sua moglie dicendole per l'appunto che Susie è scomparsa e scappata via. Guadagna anche del tempo a dirla tutta perché Maria va dalla madre a cercare Susie e allora Filippo può portarla fuori, può metterla nel baule della sua Mercedes e nasconderla da qualche parte. D'altronde ci sono molte case disabitate nella zona e Filippo le conosce bene perché di mestiere fa il carpentiere e per lavoro ripara proprio quelle case. Passa il tempo e ovviamente diventa necessario sbarazzarsi in qualche modo nel corpo di Susie quindi Filippo lo va a riprendere e lo trasporta in quel campo di notte e lo abbandona tra le pietre. Prima però deve per forza averle tolto il golf, la maglietta e il reggiseno. Arriva un'altra domanda perché Filippo avrebbe fatto tutto ciò? Forse per simulare un'aggressione intima o forse perché sui vestiti è rimasta qualche traccia del luogo in cui Susie è stata nascosta per oltre un mese e mezzo? C'è però qualcosa che non torna. Quei pochi minuti prima che la pasta cuocia sarebbero stati sufficienti per far accadere una tragedia simile? E poi una tragedia simile sarebbe potuta accadere in garage senza che la moglie di Filippo Maria si accorgesse di nulla? Ma soprattutto per Susie era così difficile anzi impossibile andarsene da quella finestra in garage? Magari c'è un'altra spiegazione. La procura avanza anche questa tesi. Susie in quella casa non ci vuole più stare. Si sente assillata braccata prigioniera. Certo per lei sarebbe facile andare via. Potrebbe chiamare suo marito oppure andarsene dalla porta principale. Ma non dobbiamo scordarci che Susie non sta bene. Che cosa le passa per la testa? Purtroppo non ci è dato saperlo. La ragazza esce davvero dalla finestra di quel garage da sola? E poi cosa fa? Vaga in stato confusionale per la zona fino a quando non incontra qualcuno? Magari un malintenzionato? Qualcuno che le vuole fare del male? E se invece avesse un appuntamento con qualcuno che l'aspetta appena fuori da quel garage in macchina e con cui si è messa d'accordo? Ovviamente stiamo parlando di qualcuno che non può essere visto da Filippo e che deve rimanere nascosto. Susie secondo questa ricostruzione quindi scavalca esce dal garage e sale in macchina. I due quindi partono e se ne vanno. Poi però succede per forza qualcosa. Forse questa persona la litiga con Susie si sente in pericolo per qualcosa che potrebbe fare o dire oppure quella persona che è andata a prenderla ha premeditato tutto e aveva intenzione di ucciderla fin dall'inizio. Lo fa con una mano sulla gola e una sulla bocca d'altronde Susie è debole. Insomma non ha neanche la forza di reagire. Dopo è necessario nasconderla farla sparire la tiene in un luogo forse per troppo tempo tanto che inizia ad avere paura di essere beccato e allora forse con l'aiuto di un complice trasporta il corpo della povera Susie fino a quel campo di notte. Filippo oltre ad essere iscritto nel registro degli indagati viene arrestato con l'accusa di aver ucciso sua cognata. Le indagini fanno anche emergere la condota dello psicologo che in realtà psicologo non è ma è uno sociologo a sua volta accusato di esercizio abusivo della professione. Entrambe le accuse però si infrangono presto per la mancanza di prove. Infatti Filippo viene scarcerato dal tribunale del riesame il quale conclude che non ci sono sufficienti elementi per tenerlo in carcere. Blue Notte il programma condotto da Carlo Lucarelli nel 2007 manda in onda una puntata riferita proprio al giallo di Susie. Qualche tempo dopo il ritrovamento e dopo il sopralluogo dei giornalisti di Blue Notte accade un fatto inquietante. Sul luogo dove è stato ritrovato il corpo di Susie vengono ritrovati gli abiti che gli erano stati sfilati dal corpo la maglietta il golfino di ciniglia beige e il reggiseno. Lì accanto poco distante c'è il cadavere di un cagnolino. Si susseguono vari tentativi della madre di Susie che si chiama Rosa che richiede nel 2011 che il caso venga riaperto e che vengano controllati gli indumenti della ragazza con le più moderne tecnologie. Gli avvocati Antonio Loiacono e Giuseppina Rizzo dicono se per un verso il tempo trascorso non gioca a favore della riapertura del caso è altrettanto vero che le moderne tecnologie consentono una ricerca degli indizi e delle fonti di prova molto più accurata rispetto a 11 anni fa. Il procuratore però rigetta la richiesta e chiude il caso. Nel 2014 il direttore di Rai3 Paolo Ruffini e la responsabile dell'unità organizzativa Informazione e Approfondimenti di Rai3 ossia Anna Maria Catricalà si sono visti notificare la sentenza di non luogo a procedere per sopraggiunta prescrizione per il reato di diffamazione a mezzo stampa. La sentenza è stata messa dal GUP del Tribunale di Siracusa Michele Consiglio a conclusione del processo intentato da Filippo Barbagallo il cognato di Susi che ha ritenuto lesiva della propria dignità la pubblicazione del servizio giornalistico è andata in onda su Blu Notte il 13 febbraio del 2007. La vicenda risale a 7 anni addietro quando nell'ultima fascia oraria è stata per l'appunto mandata in onda una replica di Blu Notte in cui si riavocava il mistero della morte di Susi. Essendo una replica del servizio andato in onda per la prima volta nel 2001 quel reportage non includeva l'evoluzione processuale a favore dell'imputato ossia Filippo Barbagallo che guardando la puntata si è sentito diffamato. Nel 2015 i familiari di Assunta Marsala presentano alla procura della Repubblica di Siracusa una nuova istanza per l'apertura del caso. L'avvocato Antonio Loiacono ha accompagnato la madre di Assunta Rosa Lamanna al Palazzo di Giustizia di Viale Santa Panagia per formalizzare la richiesta che giunge a 4 anni di distanza da un'altra simile presentata dallo stesso legale per comprendere se alla luce delle nuove tecnologie applicate alla ricerca scientifica potesse essere dato un appiglio o elementi in grado di dare un'altra chiave di lettura a quello che per gli inquirenti sarebbe stato un omicidio ad oggi senza un colpevole. Il nuovo contributo delle indagini è costituito dal telefono cellulare appartenuto a Susi che la madre ha spontaneamente consegnato al sostituto procuratore Maurizio Musco al quale il procuratore capo Francesco Paolo Giordano ha dato esplicito mandato di coordinare il supplemento di indagine. Il telefonino è stato conservato per tutti questi anni dalla madre di Assunta la quale lo aveva consegnato a Francesco Calcinella il marito della vittima subito dopo la scoperta della morte della ragazza. Si tratta di un vecchio modello e-tax spero di pronunciarlo in modo corretto. In pratica questo modello di telefono è uscito di produzione nel 2005 e consentiva un basso numero di chiamate in grado di essere veicolate da ciascuna stazione radiobase. Con quel telefono è permessa solo la comunicazione vocale quindi niente sms niente fax e niente email. I terminali di questo telefono trasmettevano ogni posizione ogni 6 minuti alla cella più vicina in modo che tutta la rete conosceva la posizione di ogni utente per poterlo facilmente rintracciare in caso di chiamate. Questo permetterebbe di risalire a una mappa ben precisa degli spostamenti di chiunque avesse un cellulare acceso addosso. Saranno gli esperti quindi a dire se quel telefonino rimasto muto per 17 anni possa oggi essere utile ad aggiungere quei tasselli mancanti a un caso sul fascicolo del quale è stata apposta la parola archiviato dopo la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Assise di Siracusa nei confronti di Filippo ossia del cognato di Assunta. L'avvocato Loiacono spiega Il telefonino in possesso della madre non è mai stato oggetto di approfondimento investigativo da parte degli inquirenti e dei carabinieri che si sono interessati al caso. Se per l'applicazione di nuove tecnologie nella scoperta di ulteriori indizi i magistrati non hanno ritenuto dare seguito alle nostre richieste perché non vi sarebbe alcun elemento di novità con questo nuovo elemento credo ci siano i presupposti per riaprire il caso e verificare che cosa quell'apparecchio telefonico possa aggiungere al mistero della scomparsa di Assunta Marsala. Ebbene sappiate che io ho cercato come una matta delle novità ma le novità si fermano qui. Purtroppo ancora oggi questo caso rimane senza un colpevole. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo caso? Lo conoscevate già? Io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non fate nulla di criminale ciao a tutti mi raccomando Grazie a tutti.